Benvenuti le previsioni del tempo per domani sabato 30 novembre. Italia sotto un doppio attacco. Da un lato ancora condizioni di forte maltempo al sud per la formazione del ciclone Nettuno molto forte in particolare sulla Calabria Ionica con nevi a mille metri. Dall'altro lato perturbazione dal nord Europa con nevi al nord ovest su Piemonte e Lombardia a tratti fino in pianura e fino a Torino e Milano a 3-400 metri Liguria. Peggiorerà sulle Alpi, sulla Sardegna occidentale. Maltempo che imperversa al sud, forte su Calabria e Basilicata Ionica ma anche sul Salento. Dalla sera alla notte nubi fragili sul Salento migliorerà al nord con residui nevocate in Piemonte. Peggiorerà invece nella notte su tutto il centro sud compresa la Sicilia, anche però sulle regioni adriatiche e sulla Romagna. Tra il Mar Ionio ed il Mediterraneo meridionale si formerà un profondo vortice ciclonico che causerà forte maltempo sulla Calabria Ionica e sulla Puglia meridionale. La campagna sarà interessata marginalmente dal maltempo. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso con schiarite, tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso della giornata con qualche pioggia, temperature in aumento, venti moderati da est sud-est, mare poco mosso.